Con quello scritto, every time you switch me off, we die a little. Ogni volta che ci spegni, noi vogliamo. È difficile spiegare alle persone che tu, vivendo da cittadina di fatto, ma non cittadina di diritto, certe cose a te non sono concesse. Mi fa fare storia architica al cinema gangster, mi fomento a bestia, perché ciò vuol dire studiare Tarantino, Scorsese, Coppola. Ciao, sono su, sono venuta a prendere la mia laurea. Mi piaceva tanto cantare da piccola. Nonno, nonno, allora posso iscrivermi al corso di canto? L'hip hop per me è tutto. Eh no, no, ma tu non devi saper cantare, devi solo andare bene a scuola e poi tra un pochino di tempo te ne vai in Italia. Tu sei bella o? Non sei fa attrice. Negli ultimi mesi ho accumulato tanta insofferenza per l'Italia. Fammi una faccia triste. Non riesco più a vivere in un posto dove mi sento continuamente un bersaglio. Fammi una faccia felice. Desidero vivamente poter essere solo me stessa e non dover rappresentare una comunità intera, un gruppo o una generazione. E' un bacio. Sì! Sotto il lampione che è romantico. Caro pubblico, è da tantissimo tempo che non faccio video. Adesso mi vedete sciupato, ho perso 5 kg, sottato i capelli e sono singola. Ieri ho lasciato Elisa. Non, c'è un'angera. Non, un'angera. Grazie a tutti.